L'Italia degli spumanti è un paese da record per l'osservatorio Unione Italiana Vini Ismea. Oltre 300 milioni di bottiglie italiane sono state stappate nel mondo durante le festività. Territori vocati lungo tutto l'arco alpino, ma il fenomeno dilaga. Ecco i vigneti di Gavi, in Piemonte. Anche le piccole denominazioni autoctone hanno coraggio, consapevolezza. Ecco, questo è importante come punto di partenza per troguardi futuri, per avere sempre nuove sfide. La sfida con la Francia ci vede vincenti per le quantità prodotte, se non per il valore, anche grazie alla crescita dell'imprenditorialità delle produttrici.